E' facile declamare sui temi del lavoro, ma la sfida ossessiva per chi governa di costruire davvero lavoro e di costruire lavoro di qualità, non lavoro col braccialetto o lavoro con le forme di lavoro più sottoutilizzate che oggi si vedono, è una sfida terribile perché ha a che fare, noi spesso parliamo di questa sfida come se fossimo ancora negli anni 70, negli anni 80, come se fosse legata a questa o quella norma nazionale, ha a che fare certo con le leggi, io penso che abbiamo fatto delle ottime leggi sul mercato del lavoro, ma le leggi non bastano, ha a che fare con una gigantesca trasformazione tecnologica, digitale che in moltissimi dei settori in cui lavoriamo mette in discussione la natura stessa del lavoro.